Il centro vaccinale dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafate è aperto a tutti, rinnovato l'invito alla vaccinazione presso la struttura ospedaliera dove sono partite le terze dosi per le persone fragili, dove è possibile accedere anche senza prenotazione, a rassicurare sugli effetti della cosomministrazione il personale sanitario. La terza dose è necessaria per i sanitari, i parasanitari, i soggetti fragili, per tutti, perché noi dobbiamo vincere questa battaglia contro questa malattia che sappiamo ancora ben poco e nei prossimi anni si conoscerà vite e miracoli, però attualmente noi oggi conosciamo ben poco di questa malattia. Io l'ho fatta 15 giorni fa e sono soddisfattissima di averla fatta anche perché sono stata come tutti gli operatori sanitari dello Scarlato tra le prime persone ad essere vaccinate, forse all'inizio un po' titubante ma sicuramente estremamente fiduciosa che l'atto del vaccinare era un qualcosa che tutelava me, i miei cari e quant'altro e l'ho fatto con tanto piacere e devo dire anche con tanta disinvoltura. Abbiamo la possibilità di vaccinare i pazienti allergici che fino a qualche mese fa potevano essere vaccinati solo a battipaglia e anche in questo caso è frutto di una sinergia, un grande grazie al dottore Vincenzo Patella che fino a qualche mese fa era l'unico a fare questo tipo di vaccinazioni e che ci ha seguito passo passo, ci segue passo passo e con cui siamo in un costante contatto e questo ci consente di fare bene le cose. Si possono presentare spontaneamente anche persone che non sono registrate in piattaforma, tutti le persone che soffrono di immunodepressione, gli oncologici, persone che fanno dialisi, i professionisti sanitari over 70, tutti gli over 80. Quindi noi al centro vaccinale del Mauro Scarlato siamo aperti da lunedì, porte aperte a chiunque, da lunedì al venerdì seguiamo gli orari 9.20, quindi dalle 0.09 alle 20 e il sabato invece è mezzogiornata, dalle 9 alle 14. di sciolari, che si uscita dal video di Paticano per la pasta, anche per le ricette, di un sistema di corretto di QTSS e di un sistema di corretto di QTSS, la moda in grado di QTSS.... La moda in grado di QTSS è laادla, di un sistema di corretto di QTSS, la moda in grado di QTSS, la moda in grado di QTSS sullevano di QTSS, la moda in grado di QTSS e il produttivo QTSS sullevano al frammentamento,